Bentornati su RevStrategy, io sono Rev, questo è Europa Universalis 4, partita con l'Ordine Teutonico, anno 1684. Stiamo andando pian piano a riformare l'imperio di Gengis Khan, forse si spera, il Gran Canato. Abbiamo una tregua coi Timuridi che durerà ancora qualche anno. Per intrattenerci ci spostiamo qui verso Karakoyunlu, che è il nostro prossimo malcapitato bersaglio. Intanto offscreen, prima di registrare ho giusto portato sul Force Limit con gli edifici e fatto un'altra armata. Niente di troppo oneroso, ce lo possiamo permettere, il bilancio è ampiamente in positivo. Grazie a tutto il commercio che poi finisce nel nodo baltico, non male, non male. Quindi, spostiamo le nostre truppe verso la Mesopotamia. E dichiariamo una guerra lampo, davvero. E questi territori li diamo tutti a Zaporosia. Diamo tutti la Zaporosia che stiamo annettendo. Cos'è? Kalemberg vuole un'alleanza. Devo essere sincero. Cos'è Kalemberg? Non c'è Kalemberg normalmente, giusto? L'hanno rilasciata. Non dico che non l'ho mai vista prima, ma poco ci manca. No, c'è? Da quant'è che non gioco nell'impero proprio duro? Sicuramente non c'era anni fa. Non capisco neanche cosa c'è sullo stemma. Ma vabbè, ci siamo un attimo persi, un secondo. È il bello di un gioco basso come Europa Universalis. Facciamo questa guerra. Non chiamiamo nessuno. Non c'è bisogno di chiamare nessuno. La guerra è distante. Si assedia Tabriz. Si prendono queste quattro province. Sì, c'è giusto un pezzo del Kurdistan. Tabriz. Maraghe. Ok. C'era una cosa che volevo fare ed era poi quando non siamo più in guerra, migliorare un po' i vari centri di commercio che non avevo migliorato questi qua nell'Asia centrale. Portarli a livello 2, quantomeno, quelli dell'entroterra. Posso mettere la velocità 5. Questa faccenda è gestibilissima. Anzi. Devo gestire la velocità 5, se no non finisce mai. Convochiamo una dieta. Vediamo un po'... No, non possiamo. Ancora... Ah! Giusto! Volevano che io facessi una manifattura a mosca. Mi sa che fallirà, perché chissà quanto tempo fa me l'han chiesto. Facciamola. È da un po' che non investi in manifatture. Ne abbiamo comunque un centinaio, eh. È quello che ci rende ricchi. Questo forte di montagna ci vuole il suo tempo per prenderlo. Perfetto. Perché tutto questo tempo che passa è tempo... ...della tregua. 1688. Siamo ancora distanti, visto? Prendiamo anche quest'ultima provincia. Giriamole tutte alla zaporosia. La Francia vuole accesso militare. Glielo diamo. Ah, sono in guerra con la Corea. Vu e yang. Cosa? No, 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 no. Perché? Vogliono Taiwan? No. La conquista spagnola di Tondo, quindi nelle Filippine. Spero davvero che non gli vengano strane idee, perché a me per formare l'impero mongolo servono un bel po' di territori in Cina. Non voglio finire a fare appugni con la Francia in Asia. Francia è il mio alleato secolare. Non è affatto il caso. Zaporosi. Abbiamo più o meno lo stesso colore. È facilissimo confondersi. Davvero facile. Eccoci qua. Fino a Kirkuk. 115% richiesto, ma... Vabbè. Cos'è sto glitch? Non l'ho capita. Solita coalizione dei soliti quattro, sempre in tregua. Bene, è così. Quelli io li terrei quasi lì. Tanto ci stiamo percorrando la guerra con i timuridi. Fammi convogliare le truppe. Esatto. Ne abbiamo... Abbiamo questi tizi qua. A difendere tutta la zona della Germania, la Polonia, la Prussia, i paesi baltici. È una sola armata per difendere una zona enorme. Ma in realtà questi possono tornare indietro e gestire anche questa fascia. Ok. Non è così ingestibile. Chi è che è infedele? Perché sono diventati infedeli, scusate? Per tutte le province che gli abbiano dato? Gli è salito il development tantissimo. E paghiamo i loro debiti. Sono ancora leggermente infedeli. Ma se faccio dev con i miei punti admin cambia qualcosa? Sì, sono scesi a 39. Bene, è così. Problema risolto. Più o meno risolto. Però adesso aspettiamo. Nuova cavalleria al prossimo in giro. Anche più uno di shock. La conquista di Deccan di Delhi? Caspita. Che fregatura. Nel senso che fanno guerra anche i mamelucchi. Io dei mamelucchi vorrei cose. Però non le voglio adesso. Le voglio prendere poi. Adesso non le... Vabbè, comunque io accetto. Deccan è un valido alleato e sarà sicuramente un valido alleato in tutte le guerre asiatiche. L'evento delle tasse troppo alte. Vabbè, ci prendiamo l'unrest. Tanto è tutto in territori dove, come potete vedere, è molto basso. Sotto zero, quindi non dovrebbe cambiare. Non abbiamo abbastanza mercanti, poverini. Persi, Europa, non sanno dove andare. Spendiamo 20 di diplomatic. Abbiamo già in negativo per il trattato di pace. Perché il trattato di pace chiedeva roba strana, a quanto pare. La Finlandia è infedela adesso. Paghiamo i debiti anche da Finlandia. Caspita. Perché abbiamo troppo development tra i vari vassalli. Cambierà sicuramente la musica appena... Appena annettiamo uno di loro. Uno di loro, poi. Il più grande in assoluto. Sbagliato evento, ma non importa. Abbiamo comunque 92% di Crownland. Ok, teniamoci attivi perché i mamelucchi potrebbero entrare in qualsiasi momento. Credo. Venire su da qua a farsi venire stranissime idee. Ma fino ad allora... Facciamo gli ignorri. E non facciamo niente. Manifatture. Le abbiamo fatte nella maggior parte dei territori produttivi. Siamo scesi fino a 0.23. Che per una manifattura non è molto. Prendiamo questo mercantilismo. Ma quanto è il nostro mercantilismo? 35%. Non molto alto, ma non importa, francamente. Qua ci abbiamo i vari territori... Gli edifici delle trade company. Che ho trascurato abbastanza. Gozlar vuole un'alleanza con me. Chi? Soliti minor imperiali. Perché pensano che io mi voglio alleare con loro? Che problemi hanno? Guardate che border gore bello abbiamo fatto. Noi e l'Austria. Proprio... Un capolavoro. Una porcheria. Tra l'altro... Adesso prendo il titolo di difensore della fede dopo questa guerra. Così posso completare l'ultima missione degli ottomani. Che visto che li abbiamo sconfitti negli ultimi cento anni. Tutte le province controllate da loro nei Balcani. Forse solo quelle ortodosse. Forse solo quelle ortodosse. Si convertono a cattoliche. In pratica gli ortodossi si rendono conto che la loro religione non è più cool. Dicono tanto vale diventare cattolici. Anche perché... Stanno seguendo la via dei dinosauri. Guarda qua. Eh? Insomma. Insomma. Se non è... Non è poco. Bello grosso scritto così. Fa la sua porcia figura. Porcia con la E. Ma l'H vuole l'accesso militare? No. Non posso dare l'accesso militare a ogni cretino che passa. Cambiamo le truppe. Abbiamo gli useri. Si mettiamo... Aspetta. Hanno molti pip in più. In realtà cambia. Sono solo pip offensivi. No. Prendiamo questi. Un altro tipo di useri poi. Fanteria di linea. Che è quella che hai su Victoria 3 quando inizi. Se sei scrauso, scrauso, scrauso. No. Non hai neanche la fanteria di linea. Hai addirittura gli irregolari. 1687 tra l'altro. No. La fanteria di linea è già a livello 2. Prendo sempre il figlio del mercante perché sono estremamente tirchio. O avido. Potete vederla in entrambi i modi. Qualche grande progetto. Cosa fa già la Santa Sofia? Fa... Ah beh, da più Papali Influence che non è male. Portiamola a livello 2. Con calma. Come va la guerra di questi con Dely? Sta andando. Se si aspettavano... Qualche coinvolgimento più attivo da parte nostra... Beh, in quel caso francamente erano degli ingenui. Siamo sempre tremendamente avanti di Admin. Fammi promuovere ulteriormente l'Advisor Diplomatic. Perché con Diplomatic invece siamo indietro. Eh, l'annessioni. L'annessioni costano molto Diplomatic. Ma la verità è che restare indietro di Diplomatic non è un dramma. Quindi ce lo si può sempre permettere. Fammi vedere un po'. Ci sono dei mamelucchi che potrebbero... uscire fuori. La Francia... La Francia è sotto i mamelucchi come potere. Vabbè. Roba scioccante. Mamelucchi forti così... Ma perché ho bastonato gli ottomani, mica peraltro. Non per merito loro. Diamo un attimo anche un'occhiata... Non c'è poco da vedere nelle Americhe. Sono molto monolitiche. L'Isola delle Spezie, Filippine, Indonesia... Il Borneo... L'Australia è portoghese. Molucca quasi tutta portoghese. Tanti britannici, ma anche tanti spagnoli e un po' di francesi. È una vera corsa coloniale qui. Interessante. Non... Non interessa a noi. Non andremo lì. Non abbiamo mille espansionistiche di quel tipo, assolutamente. A noi i navi fanno paura. Le teniamo qua parcheggiate in mezzo al mare, per chissà quanti anni. Finita la manifattura Mosca, possiamo riconvocare la dieta agli stati generali. Chiamiamoli come vogliamo. Siamo prussiani, quindi dieta è appropriato. Cosa vogliono? Cos'è sta roba? Colonizzare l'intera area di Tunguska? Dove è caduto il meteorite, come voi saprete. L'incidente di Tunguska. Dov'è? Me lo fai vedere sulla mappa? Ah, solo quella? Sì, sì, è fatti bellissimo. Facciamo questa, tanto lo stiamo già facendo. Lo stiamo già facendo. Riesco a farmela una guerra contro questo blocco monolitico nel mentre che Deccan è occupato? Vediamo. Anche perché adesso finisce... È finita la tregua con i timuridi. No, caspita, questo non ci voleva. Si sono alleati con gli ottomani. Come gestisco io sta massa di uomini? La gestisco che non la gestisco. Dobbiamo aiutare Deccan a finire la guerra con i mammelucchi. Cosa vogliono? Allora, è una conquista di Deli. Deli ce l'hanno tutte in realtà. Il problema è che i mammelucchi fanno un sacco di warscore. Beh, tanto stavano venendo su in ogni caso. Ce ne sono davvero tanti. Mettiamo velocità 4 e si fa guerra ai mammelucchi di necessità in virtù. Ci serve un Deccan forte perché dovremmo tenere tantissime truppe in Europa. Praticamente, insomma, intorno alla Turchia. Non stavo pensando a questa alleanza assurda. Sono tanti. Sono moltissimi. Andiamo a prenderli. Bene così. Abbiamo fatto fuori un po' di gente di Ormuz. Questi non hanno generale. Dai che li stompiamo. Li schiacciamo. Ok, è arrivato un generale con i rinforzi. Giusto in tempo per perdere 40.000 uomini. Come siete messi militarmente? Va, come Tec sono Tec 23. Mentre noi siamo anche noi a 23, ok? Però le loro truppe egiziane non sono più molto avanzate a questo punto. Hanno ottimi idee militari, i mammelucchi. Ne hanno. Non possiamo ingaggiarli 60.000 contro 180.000. Ci sconfiggono così. Dobbiamo comunque pensarci. Non possiamo spegnere il cervello. Come mai siamo così? Ah, l'innovatività giusto ci alza anche il cap dei poteri massimo. Mi dimentico sempre. Fammi fare una sviluppatina in Finlandia così stanno buoni. E anche una nella Zaporosia. Tanto poi sono tutti i territori che tornano a me. La Francia è ancora in quella guerra assurda. Puoi capire, sta guerra durerà all'infinito. Se invece dichiaro Yarkhand? Allora, se dichiaro Yarkhand non ci sono gli ottomani. Anch'io sono un po' sciocco a non averci pensato. Semplicemente possiamo prendere di meno dai timuridi. Perché non sono cube alligeranti. Facciamo così, dai. Tanto qualcosa di Yarkhand lo vogliamo. Prendiamo qualcosa facile da occupare. Tipo Kashgar. Chiamiamo Deccan. Che comunque ha le truppe in zona. Aiuta. C'è il Bengala. Il Bengala è una grande potenza al pari di Deccan. In verità io vorrei dare in pasto parte del Bengala a Deccan. Per consolidare Deccan come potenza indiana. Ma tenerlo comunque, insomma, sul limite dei territori che dobbiamo prendere noi. Perché ricordo che dobbiamo prendere anche la Persia. Per, appunto, fare l'achievement. Quindi fino a... Vedete dove c'è l'highlight in violetto. Questa parte di Sind. Che poi è il fiume... Ora direi una castroneria. Questo sarà l'Indo. Non me lo dice il nome del fiume. Ah, sì, sì, ecco. Sì, sì, sì. C'avevo preso. Sempre cintura nera in geografia. Anche se di quella zona lì non so davvero niente. Ixunt Leones. Quindi... Sempre fare un po' di... Università. L'illuminismo in arrivo. Dietro l'angolo proprio. Mo' me lo segno. Le nostre truppe sono... Pronte. Pressoché. Terribile questo generale. Ma quanta tradizione abbiamo? 90. Abbiamo avuto sfiga. Davvero molto sfortunati. Questo è un generale. In realtà... Non è neanche così forte. Ma è meglio di quell'altro. Quindi. Pronti per i timuridi. Per la questione Mammelucca. Comunque combattiamo due guerre insieme. Almeno è una specie di fronte unico. Più o meno. È enorme come fronte. La zona è quella. Siamo tornati al massimo di Manpower. Tra l'altro facciamo gli edifici. Dove danno più di 1.500 almeno. Dichiariamo a Yarkand. Per Kashgar. Qui. Nell'Uiguristan. Chiamiamo Deccan. Non cobelligero nessuno di questi. È una follia. Oddio. Potremmo cobelligerare chi? Questi qua. Intendo. Chi? Basta. Non ci ha fatto l'episodio scorso. La battuta. Portano di noi. U è grosso. Ok, ok. Niente cobelligeranti. È già abbastanza difficile così. Questi bengalesi. Questi bengalesi daranno problemi. Già me lo sento. Tecnologia militare 23. Le loro idee nazionali. Non hanno troppi bonus militari. Via ne hanno eh. Oddio. Più 15% danno dell'artiglieria. Dalla seconda linea. Più uno shock del leader. 10% di infatti di combattibilità. No, non sono scarsi per nulla. Quindi. In che ordine gestiamo la faccenda? Io direi far capitolare i timuridi. Occupiamo un po' di forti. Facciamo un po' di trambusto. E i timuridi capitolano. Non credo che sarà un problema. Anche perché possiamo entrare qua dalla Persia. Velocità 4 direi che è gestibile. Devo fare sempre attenzione con la coda dell'occhio. Che questi 200 mila mammerucchi. Non decidano di venire su verso i miei. In realtà è parecchio possibile. Se la Zaporosia qua occupa la Zerbaidina. In quella zona lì. Senza che devo mettermi a farlo io. Mi fa un gran favore. Ma Rev. Ma vai lì. No. Assegna l'obiettivo. La provincia. Eh. Lo so. Voi pensate che io non lo so. La vita è troppo lenta. Per giocare a velocità 2. O 3. Va va. La velocità 4. La vita è troppo lenta. Cosa si dice? La vita è troppo corta. Per giocare a velocità lenta. Sto sragionando. Sragionando. Almeno i forti stanno venendo giù abbastanza in fretta. Si sente la nuova policy che dà quel 10% in più. O forse i timuridi sono così poveri che non stanno più aggiornando i forti. Tutti i loro forti sono livello 4. Forse c'è anche quello. No. 6. Dai. Ne hanno anche i livelli un po' più alti. La questione timuride verrà gestita. In relativamente poco tempo credo. Poi possiamo spostarci verso gli arcani. No. No. Fermi tutti. Cos'era? Breslau? Ma quando sono usciti i ribelli qua? Ma io ho tolto tutte le truppe dall'Europa. Ma davvero? Ma sono stato avido così? Caspita. Piano 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 piano. Torniamo. Questa è colpa dei mamelucchi. Che mi hanno fatto preoccupare. Finito una colonia. Dov'è che devo già farla? Da qualche parte in Tungusi. Ah! Sono tre le province che devo fare. L'ho convinto fosse solo una. Mi ha fregato. Adesso le facciamo tranquillamente. Abbiamo due coloni quindi. Non ci vorrà tantissimo. Ma i timuridi ne hanno ancora di uomini o? Ma 87.000 in teoria da qualche parte. Non so dove li stanno nascondendo. Capisco anche perché li stanno nascondendo. Piuttosto che farseli maciullare da me. Mi stanno facendo fare dev in posti strani. Siamo così tanto avanti di... Administrative. Ok. Ci possiamo fermare per adesso. Vinco gli assedi in posti che non so neanche dove sono. Ah! Credo di sapere dov'era. Esatto. Non sapevo dov'era perché era qui. quando conosci tutta la mappa del mondo tranne posti assurdi sui confini della Mongolia o giù di lì e il nome ti suona strano allora vai per esclusione. Ce la fai. stanno entrando qua quelli di chi? Scendiamo. Scendiamo ancora. Qua l'achievement lo facciamo tranquillamente. Voi sapete che io tra l'altro gioco molto rilassato molto... non faccio micromanagement. Non vorrei esagerare adesso che poi mi ritrovo in realtà va qualcosa storto ma lo facciamo anche con 50 anni d'anticipo probabilmente la achievement. Senza troppi problemi. Poi c'è chi conquista tutto il mondo con una sola tag prima dell'assolutismo eh ma loro giocano anche in velocità 2 e 1 e guardano tutto nei minimi dettagli eh eh un po' diverso. è morto il generale qua facciamone un altro. Ecco tutte le truppe dei timuridi. Scappavano il più lontano possibile da noi. Fammi abbassare da 4-3 va. Siamo nel punto concitato dove ci sono tutte le truppe timuridi. Guarda Deccan che ganzi che sono vengono vengono c'hanno la loro guerra vengono ad aiutare noi. Caspita forse dovrebbero guardare i loro problemi. Ah hanno anche parecchi timuridi. Ok dai cerchiamo di finirla. zaporosia, 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 ai timuri li chiedo questo, 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 questo lo diamo a zaporosia, prendiamo altre cose da dare la zaporosia. Tanto li stiamo annettendo quindi. No, non accettano così tanto? Cos'è che dice? Manca il forte qua? Mica capito, vabbè, dobbiamo prendere ancora, dargli due bastonate in testa, necessario, non hanno capito chi comanda, sono duri di comprendonio, ma adesso la risolviamo. Ma melucchi che stanno occupando, tentando di prendere uno dei nostri forti, fermi tutti, l'Austria ci ha annunciato come rivale, ma l'Austria lo può ancora fare, l'Austria si deve guardare allo specchio e dirsi ma che abominio sono diventato, guarda qua, ci annunciano come rivale, va, sono moribondi. Rivale qua, rivale là, due piedi nella fossa hanno, avrei dovuto fare il micro lì sopra, quest'ora avrei occupato l'intera Mongolia, era un po' di worst core in più. Abbiamo preso il forte alla fine, i forti sono quello che fanno davvero il worst core. No, bisogna prendere più forti, se no non accettano. Anche a velocità 3 è difficile seguire. È il mio processore, il mio processore è molto potente, quindi il gioco a velocità 3 va già deciso. Andiamo a prendere questi, 41.000 contro 39.000 abbiamo il vantaggio del forte, li devastiamo, più o meno a senso unico. Il loro generale non è niente male, in realtà non sarà troppo, sì ha senso unico comunque. Guarda che roba! Caspita, tra un po' era un wipe, li mandavamo in rotta totale, ci è mancato poco. Erano diventati quasi meno della metà dei nostri in così poco tempo. Lavoriamoci ancora questo forte. Dopo tutto questo casino potrei dichiarare agli ottomani per fare ancora un po' di pulizia? Ci devo pensare. Sicuramente ci sarà un'altra guerra con gli ottomani per fare pulizia, non so quando. Ok. Dovrei prendere questi territori? Sì. Devo prendere questi territori in realtà dai timuridi, perché non voglio rendere i miei confini troppo brutti. Prendo questi territori, così poi dai Arcand prendo questi territori qua, così confiniamo con nuove potenze con cui non siamo in tregua. Beh, non chi perché siamo in tregua con chi. I stati che puoi rilasciare da Ming quando esplodi insomma in Cina, ci sono alcuni stati che sono dinastie vecchie di 1200 anni che non hanno neanche una grossa base etnica, perché sono sempre cinesi Han, che non hanno assolutamente senso, sono tra i stati rilasciabili più assurdi. Ora, non so in particolare chi. Puoi rilasciare Shu, che è uno stato del 200 d.C. Immagina se mi facesse rilasciare Cartagine in Europa Universalis. Magari Cartagine è un po' troppo in là, però davvero, cioè... Scusate il rant a caso storico. Accettate sta pace o non l'accettate? Ma io voglio cambiare i termini, però. A me serve questo. Ok. Un po' più digeribile a fare. Per i nostri amici. Due forti, ho un forte anche solo in più. Ed è fatta. Tanto dobbiamo sempre guardarci dai mamelucchi, perché potrebbero decidere che devono difendere i timuridi ad ogni costo. Completamente a caso. Potrebbe succedere. Avevamo punti in eccesso, come sempre. E quello che succede quando passi... ...tutta la partita con gli advisor pompati, perché sei ricchissimo, è quando hai 100 di power projection per N. ...vei problemi da avere. Ho troppi punti. Fatto una partita con la Navarra, vi assicuro che non c'era il problema dei troppi punti. Se non l'avete vista, andate a guardarvela. Se non è ancora sul canale, perché non so l'ordine in cui le rilascio, dovrete guardarvela davvero. Non è una partita intera, sono più riassunti, perché ho dovuto ricominciare 10 volte. Comunque, molto interessante, c'è una guerra di successione su Monaco. Quindi, Monaco in unione con l'Austria, piove sempre sul bagnato. Ma la Toscana contesta. Mi sa che la Toscana verrà... Sì, sono Toscana e Ferrara. Coraggiosi a contestare. Hanno scelto la violenza e l'avranno, però. Caspita, i mamelucchi stanno facendo piuttosto... ...una certa quantità di danni... ...in Europa. Ma non sono molti, quindi Costantinopoli non cadrà. Guardali lì. A Deccan. Come ci vanno decisi... Stavo dicendo, come ci vanno decisi con il Bengala. Poi vedo come sono ridotti, dico. Che cosa ho fatto? Sto sacrificando i miei cari amici. Me la dai questa? 110, 110. Non me la dà ancora. Ci andiamo vicini, però. Continuiamo a occupare tutto l'occupabile. Due forti sono in bilico. Dai, che devo spendere questi punti amministrativi. In realtà non saranno neanche tanti, sui punti amministrativi. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Facciamo così. Ne ho sprecati. Ne ho investiti un bel po'. Guardate qua, siamo leader del commercio di ferro. Un po' per i territori occupati, ma a breve lo avremo permanentemente. 5% di sconto su tutti i reggimenti e tanta roba. Anche che sono un 5%. Bene! Aspetta. Bene sì. Guarda qua. Un bel pezzo di Mongolia. È un po' per... Un po' di roba per Astrakhan. Pace. Era una pace secondaria. Ovviamente siamo ancora qua in mezzo a questi due conflitti enormi. L'obiettivo è di salvare dal Bengala Dekkan. Perché voglio dare a Dekkan almeno tre province bengalesi. Obiettivo ambizioso, lo so. Non costava niente fare core questi tre. Aspetta, tra l'altro... Prima dovrei fare raids. 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 Eccoci qua. Bella tassa patrimoniale. Ho di nuovo troppi punti. Cosa ho fatto raids a fare? Faccio raids in questi territori remoti per fare development nel cuore del mio impero. Incredibile. In questa partita il nostro problema principale è avere troppi punti amministrativi e militari. Siamo un po' indietro con i diplomatici, ma appena possiamo cambiamo il focus. Fammi livellare questo a livello 5. 14 punti mensili. Non male, non male. Grazie mille per essere passati. Apprezzo davvero la vostra compagnia, tra virgolette. Lasciatevi un bel commento se volete o anche solo un mi piace, basta e avanza. Grazie per il supporto davvero. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.